e ti saluto con la pace del signore buongiorno buona domenica oggi domenica appunto 19 maggio 2024 dio ti benedica immensamente e che la pace di cristo ti accompagni nell'arco di tutta questa giornata gloria al signore alleluia questa mattina vogliamo subito ascoltare il messaggio della parola del signore che dice proprio così il giorno della sua ascensione gesù disse ai discepoli voi sarete battezzati in spirito santo fra non molti giorni testo che puoi trovare nel libro degli atti degli apostoli capitolo 1 al versetto 5 ed ancora voi riceverete potenza quando lo spirito santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in gerusalemme e fino all'estremità della terra testo che puoi trovare sempre nel primo capitolo degli atti degli apostoli al versetto 8 il titolo di questo messaggio è questo fra l'ascensione e la pentecoste per più di tre anni i discepoli di gesù sono stati testimoni oculari della sua vita e dei suoi miracoli sono anche stati testimoni della sua morte insieme a molte altre persone i discepoli hanno concretamente visto e udito il signore dopo la sua risurrezione parecchie volte nel corso di 40 giorni e non solo in qualche apparizione fugace gesù apparso anche a 500 credenti in una sola volta il giorno della sua ascensione prima di essere elevato in cielo il signore ha parlato un'ultima volta ai suoi discepoli ricordando la loro missione mi sarete testimoni fino all'estremità della terra eppure essi l'avevano abbandonato al momento del suo arresto pietro lo aveva rinnegato nel corso del suo processo e quasi tutti lo avevano lasciato solo alla croce domanda come potevano essere ora i suoi testimoni ma il signore ha detto loro che avrebbero ricevuto potenza al momento della discesa dello spirito santo dopo pochi giorni durante l'attesa forse si sono domandati come sarebbe accaduto questo evento misterioso ma sono rimasti insieme uniti nella preghiera e nell'ascolto delle sacre scritture essi hanno ubbidito e sono rimasti a gerusalemme precisamente come il signore aveva ordinato e il giorno della pentecoste mentre che erano in preghiera lo spirito santo è sceso su di loro e come primo risultato hanno parlato in altre lingue e così hanno potuto testimoniare a molti stranieri presenti a gerusalemme nella loro lingua questi uomini infatti che li ascoltavano parlare nelle loro lingue restano meravigliate perché dice ma come è possibile che questi che sono giudei parlano delle grandi cose di dio nelle nostre lingue ce n'erano di tanti popoli quindi parlavano diverse lingue e furono toccate fu un qualcosa di sorprendente ma la cosa più sorprendente fu che a un certo punto l'apostolo pietro vedendo che alcuni invece credevano che erano tutti ubriachi e allora l'apostolo pietro ha iniziato a predicare un potente messaggio di salvezza ha iniziato a parlare in un modo potente diverso da come era prima perché perché aveva ricevuto l'unzione dello spirito santo aveva ricevuto il battesimo dello spirito santo che gli ha permesso di predicare un messaggio molto forte e infatti quel giorno si convertirono migliaia di persone migliaia voglio dirti una cosa oggi alcuni credono che questa potenza che lo spirito santo ha dato in quel giorno era rilegata solo per quel giorno e solo per gli apostoli bugia lo dico chiaramente perché la bibbia bisogna leggerla e se la leggiamo non ci sono fraintendimenti perché in quel testo nel libro degli atti degli apostoli al capitolo 2 l'apostolo pietro parlando di questo evento della discesa dello spirito santo che fu annunciata secoli prima dal profeta joele quindi è scritto nella bibbia nel libro di joele lui cita e dichiara che questa promessa sarà per voi che siete presenti e per coloro che in avanti crederanno quindi per me per te e tutti coloro che crederanno in gesù cristo infatti io posso testimoniarti che dieci anni fa no undici anni fa dodici anni fa perdonami dodici anni fa il signore mi ha battezzato con lo spirito santo allo stesso modo come lui aveva dichiarato riceverete potenza per quando lo spirito santo verrà su di voi anch'io ho iniziato a parlare in altre lingue questa è la manifestazione visibile del battesimo dello spirito santo e poi ovviamente è nato una forza una potenza che non mi è servita per spingere una macchina non mi è servita neanche per spingere una persona e faglie del male ma non mi è servita neanche a prendere la bibbia a lanciarla a colpi di di funetta fu un fu per colpire le persone no la potenza che dio mi ha dato serve a annunciare il vangelo di cristo gesù nient'altro questa potenza serve solo a questo quindi fratello sorella se hai ricevuto gesù cristo nel tuo cuore ricerca il battesimo dello spirito santo chiediglielo al signore ma ricordati che se lo riceverai e devi iniziare poi a praticarlo perché non lo devi cercare solo perché ce l'hanno tutti perché è una cosa bella e basta ricordati che sarai e sei già un testimone di cristo quindi c'è una missione da svolgere c'è una responsabilità che devi prendere io l'ho presa tu sei disposta a prenderla riflettici dio ti benedica grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.